Il Corriere dello Sport apre con un'intervista a De Laurentiis che ha chiesto l'autorizzazione per portare la squadra a giocare in Champions a Bari. Secondo lei è una cosa fattibile? Mi fermo qua, non parlo di De Laurentiis ma rispondo solo a questa domanda. È impensabile e quindi non accadrà mai che il Napoli non giochi al San Paolo. Impensabile. È anche grave che venga solo pensato, non solo detto. Napoli gioca al San Paolo.